Ciao ragazzi, stiamo andando a Szechuoco, quindi vedrete oggi con me e niente, vi porto con me, se mi no, se mi no. Questa è la prova che a piedi si ci può arrivare benissimo con l'autobus e dobbiamo stare dieci minuti fuori perché non prende, cioè perché si entra alle dodici e mezza e sono le dodici e dieci. Sì, ma non vedo l'ora di mangiare un po' di sushi ragazzi, veramente. A dopo. Siamo al SushiWalk, comunque volevo dire una cosa. Non è naturalmente. All'interno del bagno, comunque volevo dire una cosa, io preferisco questo SushiWalk perché c'è il sushi già buffet, perché perlomeno una ti alzi, qua c'è tutto a buffet, anche il sushi già pronto. E perlomeno più ti prendi quello che vuoi, non è come quando vai in un altro posto e devi ordinare e poi ti arrivano 3000 cose e non ce la fai mangiare. Qua perlomeno tu entri e ti prendi il sushi che vuoi e mangi quello che vuoi, secondo la tua fame. Credo che così sia molto meglio, secondo me, per potenza per voi. Allora, questo è il mio primo piatto. Sushi, patate fritte, mani di cipolla, pesci, nuggets alla verdura e morzini di primavera. Wasabi. Questo è un po' di sushi. Sushi, salumi, uovo strapazzato, no uovo seicciato. Uovo tonnato, funghi e insalata di mare. Un po' di buffet. Pasta con verdure e frutti di mare. Qua ci sta la frutta. Ti piace la frutta? Ah, però l'uva c'è da lei, vuoi mangiare. Funghi e patate al forno. Qua ci sta la frutta. Situazione attuale, sazzi da fare schifo. Panna cotta e cioccolato. E anche mescoina. Per la prima volta in vita mia ho preso il biscotto della fortuna, adesso lo apriremo insieme. Comunque ne abbiamo finito di cenare, non ho ripreso gli altri perché comunque non volevano essere ripresi. E niente, fatevi sapere se anche questo video vi è piaciuto e ci vediamo ad un prossimo video. Ciao!